A 24 ore dalla lunga lista delle cose che non vanno elencate ieri dagli albergatori pesaresi in contrasto alle scelte di politica del turismo del comune, arrivano le prime risposte dall'amministrazione. A cominciare dal tema spinoso dell'ascolto musica, del regolamento su orari e decibel e sulla dubbia efficacia della capacità di controllo sulle ordinanze emanate. La polizia locale sta già facendo un grande lavoro, sono già state elevate 6 o 7 sanzioni ai locali e il lavoro continua, è chiaro che raccogliendo i suggerimenti degli albergatori potremo anche modellare in maniera differente i controlli e anche implementarli, ovviamente avendo anche il supporto delle altre forze dell'ordine cosa che peraltro facciamo in tante altre situazioni dove abbiamo sempre trovato una grandissima collaborazione. Nel frattempo la nostra pattuglia fa un controllo pomeridiano costante. Belloni rivendica anche la scelta fatta sulla pedonalizzazione di Viale Trieste. Poco prima del periodo del Covid abbiamo avuto il coraggio di pedonalizzare quest'area che politicamente è sempre difficile perché quando si vanno a fare operazioni sulla viabilità non finiscono mai 10 a 0 le partite, ma già se finiscono 6 a 4 abbiamo ottenuto un bel risultato e quelli che protestano fanno sempre più che asso di quelli che sono contenti. Devo dire che il risultato è stato buono, che possiamo far meglio sempre, che nell'obiettivo dell'amministrazione c'è una rivalutazione complessiva di tutto il Viale e noi dobbiamo continuare su questa linea e pensare che noi siamo anche la città della bicicletta quindi vedere le macchine che passano in Viale tutte le ore. Io ricordo qualche anno fa la protesta degli albergatori, era il rumore dei motorini che alla sera sfrecciavano nel Viale. Ora magari il problema può essere schiamazzi o rumore di chi cerca di animare la città. Noi vogliamo che i nostri ragazzi rimangano a Pesaro, vogliamo che i locali funzionino però ci deve essere il rispetto un po' da parte di tutti. Durante la conferenza degli albergatori è stata dibattuta la dubbia utilità di una zona pedonale H24 non solo dagli hotel ma dagli stessi gestori dei locali. Da metà giugno fino a settembre, metà settembre, avere la zona pedonale 24 ore al giorno non riesco a capire l'utilità. Non serve per l'hotel, non serve per i commercianti, non serve neanche per i cittadini. Noi abito lungomare, quindi anche come cittadino mi trovo in difficoltà. Sia i sensi di marcia che sono stati invertiti negli ultimi anni, sia la pedonalizzazione che non ha... Cioè il dopocena è un più, sia per le attività, penso anche per gli hotel, il turista che scende, si fa la passeggiata, entra nel locale, mangia un gelato, mangia una pizza e riesce a passeggiare liberamente ed è bellissimo. Prima delle sette di sera vediamo proprio il deserto. Ci chiamino, condividiamo la situazione insieme, vediamo cosa è meglio per tutti perché io pensavo magari che qualche albergatore lo volesse. Magari potrebbe esserci questo, invece vedo che è un problema condiviso da tutti. Fascia oraria che secondo Belloni non può essere smembrata. Sono un po' come le ciclabili che è troppo grande, troppo stretta, ci sono dei regolamenti. Se questa è una zona APU e quindi vogliamo tenere i tavolini sulla strada, non possiamo pensare che un locale mette e toglie i tavolini alle 4 del pomeriggio, dove li mette? I locali che abbiamo qui sul viale sono locali che non hanno tanti metri quadri, non hanno magazzini e quindi diventava improponibile dal punto di vista del regolamento del codice della strada pensare di sviluppare una ZTL e non un APU perché la ZTL prevederebbe la condizione sine qua non per la ZTL che i tavoli vengano tolti e riposizionati, quindi figuriamoci se era una strada percorribile.